Benvenuti, siamo con il professor Lorenzo Redaelli, docente di italiano e storia, formatore certificato, presidente dell'Associazione Culturale e Didattica Innovativa e amministratore dei gruppi Facebook Animatori Digitali, DS, DSGA, docenti, gruppo di supporto e intelligenza artificiale a scuola. Benvenuto professore. Grazie Fabio e buongiorno a tutti. Professore Redaelli, alla luce del recente provvedimento del ministro Valditara, secondo lei è possibile realizzare una scuola digitale senza l'utilizzo di smartphone? Diciamo che iniziamo subito con una domanda molto ostica, nel senso che ogni risposta rischia necessariamente di essere parziale perché la faccenda va vista da molti punti di vista. Da una parte sicuramente capisco la necessità di evitare che i ragazzi passino troppo tempo con lo smartphone anche durante il tempo scolastico, non solo fuori dalla scuola. Se bisogna abituarli al rispetto delle regole dei docenti, senza contare che molte app, anche se su questa cosa purtroppo spesso si chiusono gli occhi, social network ad esempio, hanno determinato l'utilizzo che ne impiegherebbero l'utilizzo, la frizione sotto i tredici anni. Dall'altra parte però non si può escludere, secondo me, dalla scuola il mezzo di comunicazione dei nostri tempi e far finta che nulla sia cambiato nel modo di recepire le informazioni delle nuove generazioni. Poi ci sono tante esperienze virtuose di bio, di utilizzo degli smartphone o dei tablet da scuola, che dimostrano che quando lo smartphone è utilizzato in modo attivo per facilitare gli apprendimenti, funziona. Non è affatto uno staglio. In realtà io credo che in qualche modo si stia aggirando un problema per non affrontarne uno più grande, più ampio, che riguarda la qualità della didattica. Lo smartphone, così come i tablet e altri dispositivi digitali, possono essere dei fondamentali strumenti se si decide di adottare metodologie didattiche innovative che mettano al centro lo studente, stimolandolo con attività pratiche. Se invece si continua sulla strada della lezione frontale della didattica tradizionale, spesso anche poco partecipata, dobbiamo dire. E poi ci si lamenta che gli studenti si distraggano, non si arriva a nessuna conclusione utile per quanto riguarda. È anche vero che spesso la didattica innovativa nel panorama italiano viene bollata un po' come meno seria rispetto a quella tradizionale, rispetto allo schema lezione, compiti a casa, verifica, interrogazione. Senza in realtà che ci sia una riflessione profonda sull'impatto che questo tipo di metodologie hanno sugli apprendimenti. Che cosa voglio dire, in sostanza? Vuol dire che vietare lo smartphone non impedirà ai ragazzi di distrarsi, perché il motivo per cui lo fanno non è lo smartphone. Ci distraiamo anche noi. Insomma, se ricordi quando tu eri studente, io ricordo benissimo, ci distraiamo in altri modi, ma lo facevamo anche noi. Il problema è che bisogna iniziare a coinvolgere i ragazzi all'interno del loro processo di apprendimento. togliamo lo smartphone, ma non abbiamo risolto il problema, per quello che mi riguarda. Ecco, nella nostra precedente intervista possiamo dire che abbiamo anticipato il dibattito su scuola e intelligenza artificiale. Ci può dire a che punto siamo e come la scuola ha reagito a questo impatto con l'IA? È vero, più che anticipato, diciamo che ne abbiamo parlato in un momento in cui pochissimi insegnanti avevano avuto modo di sperimentare questa tecnologia all'interno della classe. Io sono uno di quelli che si è trovato in qualche modo preparato al ciclone chat GPT novembre 2022, perché già stavo portando avanti delle sperimentazioni sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale in classe. Adesso ovviamente ne parlano praticamente tutti, nel giro di un anno e mezzo ovviamente. Molti senza condizioni di causa, molti anche con un po' troppo entusiasmo. Diciamo che rispetto alla nostra ultima chiacchierata, che se non erro era marzo 2023, quindi veramente pochi mesi dopo il rilascio chat GPT, è cambiato tanto in termini di tecnologia, tecnologia che sta facendo dei passi dal gigante, a ritmi incredibili, perché ci sono tanti investimenti ovviamente. La scuola in qualche modo si sta adeguando, provando a integrare questa tecnologia all'interno della pratica didattica. Sono anche nate reti di scuole che hanno provato a redigere delle linee guida sull'utilizzo etico dell'intelligenza artificiale. Sono stati fatti tanti esperimenti da docenti innovatori in tutta Italia. Certamente in qualche modo gli insegnanti hanno dovuto prendere consapevolezza che quello che viene messo in discussione ancora una volta è quello che dicevo prima, il metodo di insegnamento tradizionale, perché l'intelligenza artificiale per quanto mi riguarda non fa altro che accelerare un processo che è iniziato da un ben po', da un po'. Cioè, diciamoci la verità, prima i compiti a casa, quando lo studente non era in grado di farle, si rivolgeva agli adulti, no? Al famoso doposcuola o ai genitori, se il genitore era in grado di farle. Adesso è tutto più semplice, anche economico, perché basta chiedere a certi GPT che ti risolve il problema, passaggio per passaggio. Non è cambiato nulla, nel senso che prima magari c'era questo velo di epocrisia, per cui non si sapeva come si ragazzi facessero i compiti, ma in realtà lo sapevamo tutti, e l'IA sta dando una spinta verso un processo di rinnovamento della didattica che è iniziato un po' di tempo fa. Bisogna lavorare in classe, questa è la mia risposta. ricordando che il ruolo del docente è quello di osservare lo studente durante il processo di apprendimento, in modo da poter comprendere quali sono le aree di forza, dove invece lo studente debba migliorare ed elaborare un feedback adeguato per il successo formativo dello studente. Quando io dico, insomma, la didattica tradizionale va messa in discussione, perché spesso, insomma, si confonde il voto con il punto di arrivo dell'intervento didattico, no? Non è così. Il punto di arrivo deve essere quello di aver dato allo studente gli strumenti per migliorare nelle sue aree di difficoltà. Quindi io mi auguro che l'intelligenza artificiale, mi sembra che più o meno sia questa la direzione presa, sia accolta come uno strumento in più a favore dell'apprendimento e non con uno strumento dannoso che si sostituisce al lavoro dello studente. Quello che io dico spesso durante i corsi di formazione è impensabile che la relazione educativa si trasformi nel gioco del gatto con il topo, in cui il docente cerca di scoprire se il compito è stato svolto dall'IA e lo studente cerca di non farsi scoprire. Non può essere questa la scuola, onestamente. Tant'è vero che già inizio 2023, quando ci siamo sentiti, molti colleghi mi chiedevano come fare con il problema dei compiti a casa, no? Adesso che c'è ChatGPT o altre app di IA generativa, io rispondevo molto semplicemente utilizzare metodologie come la Flip de Class, assegnando a casa contenuti da leggere o da studiare, dedicando il tempo d'aula a attività pratiche o attività in gruppo, quindi anche a sviluppare competenze trasversali. Ecco, si parla spesso di competenze trasversali, ma come strutturare in una società ibrida dove i ragazzi crescono tra un mondo reale e un mondo virtuale? Questo è un altro di quei concetti, insomma, un po' complessi da elaborare, che fatica ad essere sviluppato per bene nella scuola italiana. In realtà il concetto di competenze trasversali è cruciale, proprio in questa società che vive in una dimensione ibrida in qualche modo, no? Dove il confine tra mondo reale e virtuale è sempre più sfumato. Le competenze trasversali, cosiddette soft skills, no? Come il pensiero critico, la comunicazione efficace, la collaborazione, la capacità di adattamento sono essenziali per i giovani per navigare in questo mondo ibrido, in questo mondo tra reale e virtuale. La scuola ha un compito anche nello sviluppare queste competenze e in qualche modo ci può arrivare adottando un approccio integrato e interdisciplinare, quindi superando i rigidi confini tra le discipline per, insomma, dei progetti che abbiano respiro più ampio. E qui viene un altro dei punti cruciali, la formazione degli insegnanti. Gli insegnanti non solo dovrebbero possedere queste soft skills, ma devono anche essere in grado di riconoscerne l'importanza e quindi integrarle all'interno del loro insegnamento quotidiano, superando la semplice trasmissione delle conoscenze per creare delle esperienze di apprendimento che stiminano curiosità, problem solve, integrazione tra pari. E forse le tecnologie digitali, in particolar modo, l'intelligenza artificiale ci possono dare una mano anche su questo, sono un potente alleato. Penso a tanti strumenti collaborativi che ci sono online, alle piattaforme di learning, le simulazioni virtuali, pensate a quegli ambienti di realtà virtuale in cui i ragazzi possono esaminare un motore o parti del corpo umano, cosa che non potrebbero fare realmente, invece grazie a queste tecnologie lo possono fare. È chiaro che qui è un altro dei punti spinosi che il ruolo della scuola non è solo quello di formare di lavoratori, va oltre il semplice inserimento nel mondo del lavoro, perché prima del lavoratore va creato il cittadino. Però, secondo me, anche qui spesso si cade in una dannosa e inesistente dicotomia tra didattica per competenza e didattica per conoscenza. Questa posizione, secondo me, non esiste. Io posso veicolare gli stessi contenuti disciplinari permettendo al contempo agli studenti di sviluppare le competenze necessarie a sapersi adattare nel mondo del lavoro e nella vita in generale. Per questo, la collaborazione tra scuola e mondo del lavoro io sono molto favorevole a questo aspetto, ai progetti di CTO, vecchia alternanza scuola-lavoro, stage, partnership con aziende. Insomma, avvicinare i due mondi, il mondo della scuola e il mondo del lavoro, in modo che gli studenti non soltanto possano fare esperienze che gli permettono di imparare cose nuove, ma anche mettere in pratica le competenze trasversali che nel mondo del lavoro sono molto richieste. Quindi direi che dovremmo anche lavorare per una scuola che promuove un ambiente inclusivo e di supporto agli studenti, dove essi si sentono incoraggiati a sperimentare e fallire senza paura, perché è questo, è così che si apprende, sbagliando. E direi che le competenze trasversali si sviluppano anche tramite l'apprendimento dall'errore e la riflessione critica sulle proprie esperienze. Ecco, un'ultima domanda. Possiamo affermare che la burocrazia è nemica degli insegnanti. Può l'intelligenza artificiale supportare i docenti anche nello sveglimento dei vari compiti richiesti? Nemica non saprei, però sicuramente è spesso vista come un ostacolo alla pratica didattica efficace, perché sottrae tanto tempo, sottrae tante energie che magari gli insegnanti vorrebbero investire nell'insegnamento, nell'interazione con gli studenti. E' chiaro che poi subentra anche un po' di stanchezza proprio per tutta questa mole di carte che bisogna compilare. Sì, io direi che l'intelligenza artificiale o almeno l'esperienza che ho fatto può offrire delle soluzioni che possono alleviare il carico burocratico per i docenti, permettendo quindi loro di concentrarsi di più sul ruolo educativo. Nei tanti corsi di formazione che ho fatto abbiamo visto come l'IAPU supportare i docenti nella progettazione didattica, nella creazione di verifiche, nella redazione di documenti, nella preparazione e correzione dei compiti, ovviamente stando attenti a quello che affidiamo all'intelligenza artificiale, nella compilazione di report, nella pianificazione di lezioni. App come CiaGPT, Google Gemini sono sicuramente un valido supporto per l'insegnante. E in questi vari corsi di formazione che ho ottenuto in giro per l'Italia o anche negli ambienti collaborativi della mia associazione culturale didattica innovativa. E questo, diciamo, è l'aspetto che fa più presa sui docenti. Ho notato questo. Soprattutto quelli meno avvisi alla tecnologia, quando vedono che poi l'intelligenza artificiale li può aiutare in questi compiti, vi ringraziano, perché non avevano idea di avere uno strumento a supporto, noi dobbiamo vedere questi strumenti generativi, questi chatbot come degli assistenti, non come qualcuno che fa il lavoro al posto nostro, perché i contenuti ce li dobbiamo mettere noi. Loro ci aiutano però insomma a risparmiare tempo su cose che dobbiamo già saper fare, sia chiaro questo aspetto, perché altrimenti l'intelligenza artificiale non aiuta, può fare solo danni, come abbiamo visto insomma in ricerche fatte completamente con l'intelligenza artificiale. Un esempio che faccio spesso è quello della, quando faccio lavorare in gruppi micorsisti è quello della progettazione di un teatro apprendimento interdisciplinare di educazione civica che grazie ai suggerimenti dell'IA possono veramente essere migliorate e rese veramente interdisciplinare. Bisogna lavorarci bene sui prompt ma si può fare, ma diciamo che i compiti sono veramente tanti che si possono fare grazie all'IA. È chiaro che, io lo dico sempre, bisogna tenere l'attenzione alta verso questi strumenti, devono essere utilizzati in maniera etica però non ha neanche senso porsi in un atteggiamento di digita chiusura verso le novità, che tra l'altro è un cliché storico abbastanza noto, sempre l'uomo quando c'è una nuova tecnologia è diffidente e poi queste tecnologie però adesso fanno parte della nostra vita. Diciamo che adesso è il turno dell'intelligenza artificiale, è l'imputato di turno ma sono convinto che presto il mondo della scuola ne comprenderà l'utilità anche dal punto di vista burocratico e adotterà questi strumenti in maniera capillare, anzi esistono già iniziative in tal senso di scuole che di scuole o riti di scuole che stanno adottando l'intelligenza artificiale proprio per farsi supportare nel lavoro burocratico e spero insomma che queste pratiche vengano diffuse un po' in tutta Italia. Grazie professor Ritelli per essere stato con noi. Grazie a voi. Grazie a voi.